Ecco la Bruna con mezzo vasetto, che riccio! Sempre con le sciabatte, ti basta questo riccio? E' tra tutte e due, ora si guarda, allora cosa vuoi mettere? Sì! Non ce l'ha più già fatta, quando si fa il trapianto, quando va a fare la pavella, ci fa rimettere sotto le lato, tutto spampanato così, sono quelle a cascata, però ci va fatto un forellino prima di attaccarli, qual è la fune? Io pensavo di metterci questi, ma questi si sono rotti, ma metterli dove? Di dentro questo e poi attaccarlo qui? Ah, a farlo passare di sotto? Tu si hai capito? Ah, ho capito, si, giusto, però ci sono anche i sani. Grazie. 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 Grazie.